In cubo rapine in villa nell'osimano banditi pistole in pugno dall'imprenditore pigini bottino oltre 20.000 euro Terzo rinvio per la perizia di Alessandrini chiesta dal GIP vanno sentiti i genitori dell'assassino di Pansieri Valorizzare boschi e natura attraverso percorsi escursionistici sui monti della Laga per valorizzare la filiera del legno E' l'evento clou dell'estate per gli amanti dei folli anni 50 Il Summer Jamboree attira a Senigallia migliaia e migliaia di colorati turisti Buongiorno dal sottoscritto e dalla redazione, benvenuti alla prima edizione di All News Allora è stato un vero incubo tipo arancia meccanica per la famiglia di un imprenditore nell'osimano Ci spiega tutto l'accaduto la nostra inviata sul posto, Manolita Scocco Brutta avventura per l'imprenditore Fausto Pigini Molto noto nella Val Musone per essere il titolare del gruppo Pigini SRL Che produce calzature di lusso per il gruppo Gucci Lunedì sera, poco dopo le 23, la sua casa, quella che vedete alle mie spalle Siamo a San Sabino di Osimo, in un luogo neanche troppo isolato In una via dove ci sono tante altre abitazioni Eppure parecchie persone Sono entrati quattro malviventi Approfittando del fatto che l'uomo non fosse in casa C'era però la moglie e hanno messo a segno una rapina I quattro malviventi, tutti a volto coperto Pare abbiano saltato la recinzione e forzato una porta a finestra al piano terra L'allarme non era stato inserito La moglie dell'imprenditore, che era a casa da sola È stata minacciata con l'arma e costretta a fornire tutte le indicazioni necessarie Per trovare e aprire la cassaforte I ladri hanno agito molto rapidamente In un quarto d'ora circa Si sono fatti consegnare un bottino stimato in 15-20 mila euro Tra oggetti di valore, oro e gioielli Nessuno sembra aver sentito nulla Le indagini spettano ai carabinieri della compagnia di Osimo Che sono intervenuti nella notte a sirene spiegate insieme alla scientifica arrivata ad Ancona Utili alle indagini saranno le telecamere private E quelle che il comune ha piazzato sulle principali vie di accesso a Osimo E torniamo a parlare del delitto pansieri a Pesaro E della perizia psichiatrica del reo confesso Michael Alessandrini Assistito dall'avvocato Salvatore Asole E' stata chiesta un'ulteriore proroga per depositare la perizia Ora stabilita per il 20 di agosto Il pool di consulenti sentirà anche i genitori dell'assassino Per valutare altri elementi a completamento del quadro complessivo Ora la data per l'udienza è fissata per l'8 settembre alle ore 10 Rammarico dal difensore di Alessandrini Su questo terzo rinvio che dichiara Non penso che il mio assistito sia un ragazzo sano di mente Ci sono grossi deficit della sua psiche Sigilli sui beni per un totale di oltre 10 milioni di euro Si tratta di automezzi, terreni, fabbricati di una cooperativa cooperante Nel settore dei trasporti sanitari Congelate anche le disponibilità finanziarie degli indagati Per circa 200 mila euro Questi i risultati delle attività Svolte dalle fiamme gialle di Pescara Da nord a sud In diverse aree del territorio nazionale In esecuzione di un decreto di sequestro preventivo Emesso dal GIP del Tribunale del Capoluogo Adriatico Su richiesta della Procura della Repubblica Dalle indagini è emerso che diverse gare d'appalto Per l'affidamento dei servizi di trasporti in ambulanza Svolti in Abruzzo Lombardia, Marche, Umbria, Campania, Lazio e Sicilia Sono state turbate dalla cooperativa Tramite fraudolenti ed anomali ribassi di prezzo Garantiti non solo dallo sfruttamento dei lavoratori Costretti a turni massacranti senza né ferie né contributi straordinari Ritenuti sotto i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale Ma anche dal mancato rispetto di condizioni di contratto Stipulato con gli appaltanti Il servizio di soccorso è stato fornito infatti Con un numero di ambulanze inferiore a quanto contrattualmente previsto E anche con pochi mezzi ma tra l'altro anche mal sanificati Dopo il loro utilizzo durante la pandemia del Covid Bene ed ora cambiamo tono di argomento Anzi parliamo di tutt'altra cosa Andiamo con la diretta dal porto di San Benedetto del Tronto Dove si trova Cristiano Pietro Paolo in compagnia di ospiti Per parlarci che vedo già collegato Di una bella iniziativa legata al mare, all'ambiente Ma soprattutto all'inclusione A te Cristiano Parlaci di questa bella iniziativa Esatto, esatto Buongiorno, grazie Lino per la diretta Siamo qui in diretta da San Benedetto del Tronto al porto In compagnia di Giuseppe Illuminati e di Olga Nibale Dell'associazione Argonauti Cos'è l'associazione Argonauti e quando è nata? L'associazione Argonauti nasce È un'associazione sportiva, nasce nel 2022 E si prefigge come scopo quello di poter avvicinare più persone possibili Attraverso le attività sportive in mare A 360 gradi Con la possibilità di dare anche una parte culturale Non solo sportiva e anche cegno di biologia marina E loro hanno creato un progetto che si chiama Il Mare non ha paese Di cosa si tratta? Sì, Il Mare non ha paese è un progetto che è stato cofinanziato Dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri Ed è un progetto contro le discriminazioni In questo caso soprattutto razziali Proprio come dice il nome Il Mare non ha paese Vuole coinvolgere tutti con un unico concetto Cioè quello che il mare, avendo appunto il 75% della superficie occupata Coinvolge tutti i paesi indistintamente dalla razza o dall'etnia Abbiamo coinvolto 152 ragazzi che hanno potuto fare attività sportive Come kayak, escursioni in mare con la biologa marina a bordo Vela e anche snorkeling E addirittura a luglio è stata effettuata una lezione Di primi cenni di baby rescue e salvamento in mare Con la FISA al circolo velico nelle grotte di Grotta Mare Questo è un progetto estremamente importante per i ragazzi della zona Noi abbiamo potuto costituire una rete anche con le comunità educative E le cooperative che si occupano di rifugiati e di immigrati Ed è rivolto soprattutto a loro A coloro che hanno vissuto purtroppo il mare con un'accezione negativa Quindi hanno un trauma dovuto a questi viaggi della speranza Noi vogliamo rimettere a loro la voglia di andare in mare E fargli conoscere il fascino del mare Quindi l'aiuto concreto è proprio su una barca Sì, su una barca che è la nostra sede operativa Con cui già effettuiamo escursioni e educazioni verso il mare In particolare queste escursioni sono dettate da un unico principio E cioè quello di far conoscere le bellezze del mare adriatico Troppo spesso bisfrattato e sottovalutato Invece è un mare estremamente ricco di vita e di biodiversità I ragazzi così con questo progetto possono avvicinarsi gratuitamente A questa nostra attività Io faccio i complimenti ai miei ospiti per la bellissima iniziativa E qui da San Benetto è tutto Lino ti ridò la linea, grazie mille Grazie, grazie Cristiano per questi bei spaccati Che ci regali a te e ai tuoi ospiti per la bella iniziativa Allora rimaniamo sul mare Un tempo era la mucillagine a togliere il sonno a bagnini e bagnanti Ma anche altre forme di proliferazione marina sono fonte di preoccupazioni Ce ne parla Claudio Comirato Non sono pericolose, senza dubbio fastidiose Ad essere chiamati in causa è la fioritura delle alghe verdi Che in questi primi giorni di agosto si è fatta vedere in alcuni tratti della costa marchigiana Complice il mare calmo, ma soprattutto le alte temperature Le alghe verdi sono andate incontro ad una fioritura piuttosto evidente Soprattutto in quei tratti del litorale dove sono presenti le scogliere Che in qualche maniera creano una sorta di bacino Che contribuisce, e non poco, a raffermare le acque E soprattutto a far salire la temperatura Fioritura delle alghe che in realtà potrebbe avere i giorni contati In quanto nel fine settimana è previsto un calo delle temperature Così come un peggioramento delle condizioni del mare Oltre alle alghe, in questi giorni di agosto si sono fatte vedere le cavallette Che nella zona di Riccione hanno creato qualche problema ai bagnanti Anche se, come le alghe verdi, non rappresentano un pericolo per l'uomo Bene, il tema della settimana è l'acqua, lo sapete Un po' declinato in ogni forma e prospettiva Adesso andiamo con il secondo collegamento Ci trasferiamo ad Apecchio Dove è collegata in diretta la nostra Camilla Cataldo Insieme dovrebbe esserci il primo cittadino Si parla appunto di acqua, di acque, ma acque particolari Camilla, a te la linea, spiegaci che cosa fai lì e perché Soprattutto sei andata lì Buongiorno Lino, io mi trovo ad Apecchio Davanti alla fonte di acqua sul furia Un'acqua unica e particolare Ne parliamo con il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci Al quale io voglio subito chiedere Da quanti anni sgorga ininterrottamente questa fonte E perché proprio qui? Buongiorno intanto Allora, questa è un'acqua veramente pura Dal punto di vista delle caratteristiche chimiche eccetera È un'acqua solfurea e quindi ha questo caratteristico Io dico profumo, altri dicono odore Altri dicono ancora con una definizione diversa Però, dunque, arriva da una sorgente Che si trova in località Val Felcino Questa è la denominazione proprio della località Attraverso una rete, una condotta di circa 7 km Sono decenni, io adesso dire proprio l'anno preciso Nel quale è stata realizzata questa condotta Non lo so, però penserei agli anni 80 Probabilmente 80 o inoltrati diciamo Questa era stata fatta questa condotta Per una sorta di progetto di sviluppo Ai fini turistici Di valorizzazione un po' del territorio Dell'ambiente E quindi con una ricerca mineraria Che era finalizzata poi A un utilizzo termale Ad un utilizzo curativo Più che altro termale Diciamo Ai cittadini però è rimasta Questo regalo, questo dono E quindi, come vedete Sgorga in quantità continua Sgorga con una forza E con una potenza notevole Per cui tutti i giorni I cittadini, i visitatori, i turisti Possono goderne dei benefici Che come sapete sono notevoli E abbiamo visto un bel via vai Di persone che si avvicinano Bevono o la usano Anche semplicemente per pulirsi il viso Fa bene proprio le articolazioni Alla pelle Anche all'orecchio qualcuno dice Sicuramente il nome deriva dallo zolfo Sì, sicuramente la componente principale Che come dicevo Dà questo caratteristico odore È la componente solforosa Allora, questo è anche un luogo Particolarmente sentito Sentito dai cittadini Perché siamo al termine Del piano di velluto E quindi è già meta Questo parco di visite Di passeggiate Eccetera Ovviamente l'acqua solfuria Dà un tocco in più Ma il nostro paese Il nostro territorio È particolarmente ricco Di sorgenti e di acque Vi è un'altra sorgente Che quando ricordo Che io ero bambino Nella zona della taverna Mi sembra C'è qualche cittadino Più anziano di me Che suggerisce Che suggerisce E c'è qualche elemento In più da darci E lì era meta Ricordo benissimo Di picnic Di merende Ci si andava con i genitori Con le famiglie Adesso La portata di questa sorgente Purtroppo è venuta Un po' meno La quantità è molto ridotta Ma anche quella Ricordo Aveva un sapore Molto molto intenso Ed aveva caratteristiche Sicuramente Molto molto raffinate Molto importanti Dal punto di vista chimico Delle proprietà Eccetera eccetera Però noi siamo orgogliosi Di vivere in un territorio Che ha proprio nell'ambiente La sua prerogativa principale E l'acqua Solfura O solfurea O di altro tipo Comunque è una caratteristica Che ci rende fieri Orgogliosi di questa potenzialità Sì è un'acqua D'elezione Diciamo così Usata anche per i trattamenti Termali L'odore è quello di Uovo sodo Qualcuno dice anche Uovo marcio Però fa davvero bene Quindi la consigliamo a tutti Io direi che A questo punto Possiamo dare la linea Allo studio Ringrazio ancora il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci Per questo intervento Grazie a voi Buongiorno E venite a bere l'acqua solfurea Così potrete visitare Anche le bellezze Del nostro territorio pecchiese Buona estate Anche a voi La linea può tornare a Fano Bene grazie Prenderemo in parola Il sindaco Per questa cura termale A costo zero E poi insomma Visitare anche Le bellezze Di quel territorio Bene E rimaniamo Immersi nella natura Però parliamo Di un'altra zona Molto bella Delle nostre marche Tra Acqua Santa Terme E Arquata del Tronto Qui nei monti Della Laga Saranno riaperti Pensate i primi 22 chilometri Su 82 totali Di piste forestali Utili Per la valorizzazione Della filiera Del legno Sia per la pratica Escursionistica Tutto questo Grazie ai fondi Regionale Di Nex Appennino Il servizio Di Manuela Cermignani La nuova filiera Del legno Una montagna Di vere opportunità Inaugurato il nuovo progetto Che vede protagonisti I comuni Dei monti Della Laga E del crattere Sismico Per una filiera Del legno 100% Marchigiana La filiera Del legno Porterà sicuramente Un'economia Diversa Sui territori Porterà Occupazione Porterà imprese A lavorare Sul territorio Oggi Diciamo Parte quello Che è il discorso Di ripristino Della viabilità Già esistente Quindi Quello è importantissimo Per poi accedere Con i mezzi All'interno dei boschi E poter effettuare Il taglio E poi la trasformazione Quindi sia Per quanto riguarda Il pellet Sia pure il cippato E poi anche Tutto quello Che riguarda Poi il mobile Quindi la trasformazione Di legno Che va proprio Verso queste industrie Queste industrie Comunque Avranno sede Qui in Acqua Santa Quindi sarà fondamentale Che rimangano Sui territori E diano lavoro A chi abita Questi territori La cosa importante Oggi è che Finalmente Valorizziamo Una filiera Quella forestale Che può essere Decisiva Per il rilancio Socioeconomico Del cratere Voi pensate Che fino adesso All'interno Di questo Appennino centrale Non abbiamo Mai valorizzato Al meglio Questo legname Che è Una delle risorse Naturali Più importanti Del nostro territorio Quasi Quasi Il 90% Del cratere È in realtà Pascolo Oppure Foresta Oppure Oppure Bosco E quindi Da un primo Finanziamento Del piano di sviluppo Rurale C'è stato Un ulteriore Finanziamento Del fondo Complementare Sisma Che gestisce La struttura Commissariale E la filiera Del legno Comincia A riprendere Vita Perché ci sono Degli studi Che considerano Possibile La possibilità Di utilizzare Il nostro legno Anche per la bioedilizia Quindi noi Iniziamo Andiamo avanti Ma siamo convinti Che questa potrà essere Una di quelle Strategie Fondamentali Per il rilancio Economico Del cratere L'Italia È il quarto paese In Europa Per elementi Da costruzione In legno Siamo il quinto Paese Al mondo Per saldo Commerciale Della bilancia Nell'arredo Legno E importiamo L'80% Del legno Proprio grazie Al fatto che c'è Un'economia nuova Che si chiama L'economia circolare Il legno Tornerà ad essere Nei prossimi decenni Il materiale Con il quale faremo La maggior parte Dei beni d'uso E di costruzione Beh sicuramente Il green building È la nuova frontiera Soprattutto visto Che ce l'abbiamo Anche in casa Oltre 90 Imprenditori Parlando di economia Da tutte le marche Alla tradizionale Appuntamento estivo Del comitato Piccolo industria Di Confindustria Peso Rubino E Confindustria Marche Svoltosi Lo scorso 28 luglio Presso il centro sportivo Di Borgo Pace Team building Workshop Sulla comunicazione digitale E le PNEI Tenuto dal professor Marco Cioppi L'Università degli Studi Di Urbino Carlo Bo Un incontro Per fare rete Appunto Come ha rilevato Il direttore Di Confindustria Pesero e Urbino Andrea Baroni Che ha detto Organizzare eventi Nell'entroterra È doppiamente importante Perché in queste zone Spesso sfavorite Dalle difficoltà Aviarie Tecnologiche E dalla carenza Di servizi Si fa riferimento Alla banda larga Esistono comunque Tuttavia Realtà imprenditoriali Di grande eccellenza Bene E adesso Parliamo di una manifestazione Che sta imperando In questo periodo Qui in zona Andiamo a Senigallia Per il Summer Jambori Che ogni anno Catalizza l'attenzione Degli amanti Di questi favolosi Anni Anni 50 Con Macchine Vestiti Feste Insomma Veramente Un tripudio Di rock and roll E di colori Sono stati lì per noi Romina Verdinelli E Marco Zingaretti Il Summer Jambori Il Festival Internazionale Di musica e cultura Dell'America Anni 40 e 50 Continua ad appassionare Ad affascinare Turisti Visitatori Appassionati E curiosi Provenienti da tutto il mondo In quella che è la sua Bellissima Senigallia Dall'inconfudibile Spiaggia di Velluto Con la Hawaiian Beach Al suggestivo centro storico Con la spettacolare rock Tra concerti di musica Swing Rock and roll Mercativi vintage E piazze Che si trasformano In piste da ballo A cielo aperto Si ha la possibilità Di vivere a pieno Tutta la magia Degli anni Del dopoguerra E della rinascita Ad arricchire L'edizione numero 23 Del Festival Internazionale Nei pressi Dell'inconfudibile Rotonda a mare In piazza della libertà Appare una sorta di scatola magica Per tutti gli appassionati Di motori E non solo Stiamo parlando Dello spettacolare Furless David Motor Drone Fino a domenica 6 agosto Potrete assistere Allo spettacolo Di moto indian Che strecciano All'interno Dell'antico Motor Drone Datato 1937 Unico esemplare Esistente in Italia Ed uno dei soli 20 esemplari Esistenti In tutto il mondo Il Summer Jamburi Continua a fare centro Anche in questa nuova edizione 2023 E continuerà a regalare Nella sua Senegalia Suggestioni ed emozioni Fino a domenica 6 agosto Beh veramente Tanta roba Per gli amanti Di questo Genere musicale E non Ed ora chiudiamo Questa edizione Di All News Col botto Ma non nel senso Di una notizia bomba Ma anziché Proprio di fuochi Pirotecnici Spesso l'estate Sono uno spettacolo Nello spettacolo Come vedete Da queste bellissime immagini Qui siamo a San Benedetto del Tronto Per la festa Della Madonna della Marina Che ha visto Un'ampia partecipazione Agli appuntamenti A carattere sia religioso Come la processione Partita dalla banchina Malafizia Diretta alla cattedrale Madonna della Marina Accompagnata Dall'immancabile Banda cittadina Come pure anche Il palio velico Dei quartieri Organizzato Dal circolo Nautico San Benedettese E infine Appunto Si chiude in bellezza Poco prima Della mezzanotte Di domenica E con i fuochi d'artificio Che stiamo vedendo Veramente in queste immagini Spettacolari Fuochi d'artificio Che si possono Vedere Che si sono potuti vedere Da punti strategici Della città Come il porto Gli stabilimenti balneari Ma anche Dalla collina Per un bellissimo Spettacolo Per la gioia Insomma Degli amanti Di questa forma D'arte Perché insomma I fuochi d'artificio Sono anche una forma D'arte Bene Siamo arrivati In fondo Questo è il sommario Con le notizie principali Di oggi Incubo rapine In villa Nell'Osimano Banditi pistole In pugno Dall'imprenditore Pigini Bottino Oltre 20.000 euro Terzo rinvio Per la perizia Di Alessandrini Chiesta dal GIP Vanno sentiti I genitori Dell'assassino Di Panzieri Valorizzare boschi E natura Attraverso percorsi Escursionistici Sui monti Della Laga Per valorizzare La filiera Del legno È l'evento clou Dell'estate Per gli amanti Dei folli anni 50 Il Summer Jambori Attira Senigallia Migliaia e migliaia Di colorati turisti Bene Vi ricordo Che per stare Sempre collegati Durante tutto il giorno Con le notizie Sia di carattere Di cronaca Di attualità E di sport Avete a disposizione Il nostro giornale online Che vedete qui In home page UTVRS Con le notizie Di cronaca Sport Sempre aggiornate Nonché anche Il bottone Della TV Live Con il quale potrete Seguire in streaming Sempre tutte le trasmissioni Che vanno in onda Sul canale 13 Compreso anche All News Se non siete Davanti al televisore Di casa Dopo la sigla Il Meteo E poi non perdetevi All Sport Dalla redazione sportiva Di Re Canati E quindi insomma Poi a seguire I nostri programmi Del pomeriggio Bene Questo è tutto Per questa prima edizione Il TG torna questa sera Alle 20 e 15 Arrivederci Previsioni per oggi Al mattino Sulle coste Bel tempo Con cieli quasi sereni In montagna Bel tempo Con cieli sereni Nel pomeriggio Sulle coste Previsioni Per domani Al mattino Sulle coste Bel tempo Con cieli sereni In montagna Bel tempo Con cieli sereni Nel pomeriggio sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.